Apprezzate la fatica, se potete. Nella vostra vita non abbiate paura di faticare, perché il valore delle cose è determinato dalla fatica che si impiega nel poterle ottenere o nel poterle realizzare. Se otteniamo delle cose senza fare nessuna fatica, queste cose non hanno nessun valore, non servono a niente, non ce ne rendiamo nemmeno conto. È l'immensa fatica che facciamo per poterle ottenere e che gli dà valore. Questo vale non solo per le cose, non solo per i traguardi, ma anche per gli affetti, per le sensazioni, per i sentimenti.